Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video Sono le 2.07 di mattino Vedete una location diversa, perché? Perché sono in cucina Non faccio la registrazione in camera Perché dall'altra parte c'è un appartamento E la mia camera è comunicante con la camera di un bambino di 5 anni Quindi mettermi a registrare a quest'ora un video Vuol dire scatenare un putiferio con i genitori del ragazzo Quindi sono venuto qua in cucina Parlerò comunque a bassa voce per non disturbare tutto il quartiere Dato ciò, ci vediamo in game Eccoci qua ragazzi, siamo in game Allora, come avete visto dal titolo In teoria oggi si, diciamo, completa tutto l'aggiornamento della stagione 6 Di Call of Duty Mobile Finalmente Battle Pass stagione 6 Possiamo acquistarlo Attenzione, andiamo a vedere su acquista Ah, mamma mia, l'MSMC Wild West Poi abbiamo Ghost In versione Cowboy Mamma mia, il BK97 Wild West mi sembra Seraph Desperada E l'Outlaw Head qualcosa, scusate Headstroke Monta in sella con Ghost Cowboy Seraph Desperada Bocca distante Ghost con il Battle Pass Premium Ragazzi, andiamo subito ad acquistarlo Come ve l'ho detto, naturalmente, nel video di tutte quelle che sarebbero state le novità Ecco qui, a livello 1 ci viene dato l'Outlaw, colpo di calore M4LMG, colpo di calore LK24, colpo di calore Battle Pass 25% credo di sconto Ah no, di punti spedenza bonus Oh, attenzione, livello aumentato Ci ha dato 200 crediti delle armi Lotlo, grandissimo E Ghost, in versione Cowboy Visto che, probabilmente, avevamo acquistato il Battle Pass precedente Siamo a livello 1, si presenta con questa grafica Allora, sono curioso di vedere a livello 50, subito, che cosa ci riserva il futuro Ci viene dato l'MSMC, seppaggio, West Molto bene Gioca in qualsiasi modalità o completa incarichi stagionali per ottenere punti esperienza Battle Pass Gli incarichi di Battle Pass sono stati rimossi Ottieni punti esperienza Battle Pass disputando partite multiservatore o Battle Royale Completando gli incarichi stagionali Tutti gli utenti in possesso del Battle Pass Premium otterranno 25% di punti esperienza Battle Pass extra nelle partite Molto bene Hanno rimosso, come avevo detto nel video scorso, praticamente quella che era una volta le ricompese giornaliere Quelle piccole ricompese random, eccetera, hanno un po' stravolta la cosa A me non dispiace Stagione 6, visualizzo, che cos'è che è? Sono dei concept, degli schizzi Molto fumettosi, mamma mia, con l'hotlo Ah ragazzi, naturalmente, non mi sono dimenticato del torneo di Call of Duty Ma ne parleremo fra un po' di tempo Non partecipo, ve lo dico subito Quindi credo che me l'abbiano chiesto No, assolutamente ragazzi, io non partecipo Odo un mitigiocatore, però ve lo porto lo stesso sul canale Magari andiamo a fare delle reaction dei migliori giocatori Magari al mondo, dei youtuber Che portano le loro partite sul loro canale Le andremo a vedere insieme, le andrò un po' a commentare E di sicuro io avrò soltanto da imparare In evidenza, stagionale, giornaliero, altro Vediamo in evidenza cosa c'è Gioco a tre partite Ok, qui come vedete in alto possiamo sbloccare alcuni premi Alcune texture, alcune skin Uccidi indici limiti, CLB che è se non sbaglio ruba la bandiera Esatto, intanto hanno introdotto questa modalità Poi la andremo a vedere ragazzi Sorveglia e distruggi Usa i tuoi strumenti per operazioni di sorveglianza E distruzione di contosorveglianza E abbiamo queste esperienze Ok, farò bandito Cecchino del litro Bello, locus, flusso, bronzo Mamma mia, quanto per potente Ok, ragazzi Poi le andremo a scoprire nel corso dei prossimi video Poi mi mandano richieste ogni dove Perché sapevano che avrei fatto il video Andiamo a riscattare tutta l'area nuova L'andiamo a mettere immediatamente Che ci sta bene con il robottino da panico Gioca due partite e batte il royale Gioca due partite e un colpo morto Le faremo, le faremo Poi c'è questo qua dell'invito amico Ragazzi, io vi posso lasciare il mio codice Eccolo qua Lo vedete a schermo e ci sarà nei commenti Aggiungetemi Mi vengono date cose Vi vengono date cose Ragazzi, iniziate ad eseguare Call of Duty Eseguite il canale Subito L'istruzione è qua sotto il mio faccione Con calma Battle Pass Subito Vai Attenzione Come cacchio acquista premium pass? Assolutamente Ci costa 1280 CP Ragazzi, ce li abbiamo Andiamo ad acquistarlo Ne abbiamo 2530 Acquistato Olè Siamo a livello già 13 Andate la stala Abbiamo ricevuto Ghost Cabo E guardatelo qua Mamma mia Alla per potenza Hotlow Colpo di calore Mamma mia Guardatelo lì La mina a pressione Vittoriano sicuro Beh lì Ragazzi, beh, è stupenda questo text Assolutamente nelle mie armi Granata a fermentazione Bandito HK 117 Vittoriano Scuro Ho detto sicuro o scuro? Non lo so ragazzi Scusate Forse non sono sbagliato Abbiamo anche sbloccato Surf Desperada Attenzione Un botto di robe Ci ha dato Mamma mia Ci ha dato anche Credo 230 CP Vado ad accettare L'invito del buon Paolo Sei in diretta Con il mondo Vuoi salutare qualcuno? Vuoi presentarti? Ciao a tutti Mi chiamo Pino Paolo Ok, si chiama Pino Paolo Paolo Pinoli Ragazzi Dopo vi dico anche la via Devo aprire due casse Guardatelo qua Il BK57 Salvaggio West Mamma mia ragazzi Devo averlo assolutamente Che col robottino Mamma mia HS0405 Testa di rame Mi piace Perfetto Andiamo ad aprire anche la Ragazzi se lo otteniamo subito Ma noi siamo dentro Ok Ci ha dato Il DLQ33 Tipo dorato Cose Eccetera Allora ragazzi Il robottino Lo amo Però Facciamo compagnia Al Paolo Con La sera Il cowboy Ma che cowboy Con la signorina Mamma mia ragazzi Allora È figa Innanzitutto Ma Mi sa che non ho aggiunto Il cecchino Quell'altro Si c'è Emane alle battle royale No battle royale No Battle royale no Ok quindi ragazzi L'hotlone L'hanno aggiunto per ora Le battle royale E questo mi disturba E non poco Abbiamo Una nuova texture Si Ragazzi Guardatelo qua Serpente del deserto Quanto Cioè guardate quanto è per potente La bombetta Qua da panico Andiamo a vedere Ragazzi La tuta alare Ho sbloccato quella nuova Serpente del deserto Mamma mia Quanto è per potente Ragazzi Partiamo Vediamo anche se nella battle royale Hanno cambiato qualcosa Speriamo di sì Ah bello Guarda qua Guarda qua Ti piace eh Ti piace la schiena Scusami Ma se ti faccio sto balletto Scusalo Allora ragazzi Dalla Schermata E dalla partenza Non mi sembra Che abbiano fatto aggiunte Apriamo la mappa Eh no Io pensavo Mettessero anche La parte nuova Ma No Giorciamo una partita Battle royale Una multigiocatore Eventualmente Nella mappa nuova Davvero figo Cosa? Cowboy Cowboy è davvero figo Sì ma la signorina Che t'ha fatto? Sì però Non mi hanno messo l'ottolo Nella battle royale Cioè non mi sta bene Ma Quante cacchio di armi ci sono? Bot Sì Sì Attenzione ragazzi Arctic esotico Mamma mia subito Subito Di cattiveria Lo vuoi tu Paolo? Volentieri C'è un nemico qua Mamma mia Senti che voce sexy Che è la tipa Questa è giù bot Vuoi un'adrenalina? Ma l'adrenalina Io non la uso mai subito Perché sono sprecato Dai zombie fate cose Fate cose Fate cose Siete inuti Aspetta Sono solo una nave Mi sa che sono bot Però No 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 Giocatore reale Te lo pingo È vicino a te mi sa Era Sì Fatti Arrivo Mi sono uno L'altro morto Sì sì lo so Fermati Dove cacchio vai Paolo Fermati Ma devo anche salvare I miei compagni Ma state fuori Andiamo a prenderci l'elicottero Cacchio Non c'è l'elicottero Però magari se c'è la macchina C'è manco quella Non va Vieni Inoltre Per puttana Eva Botta Vieni Guarda che devo togliere Stoccolato Penalino Ma non l'ottica per 4 Ma stai fuori L'ottica per 4 Su Gks È come le ruote Di un monster truck Su una Ferrari Fermati 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 Subito In chioda In chioda Prendiamo quella macchina Eh scusami eh Che ti fa schifo Eh chi guida? E chi vuole fare il cazzone Ok Quindi tu fa il cazzone E io guido Allora drop ci sono ancora Però silenzio Mi prendo un paio di adrenalina Che non ci sono naturalmente C'è uno che ha usato l'abilità di là eh Dove di là? I bot so che usano l'abilità È andato Sta andando verso la parte sinistra Cazzo c'è neanche uno dietro Vai uccido tu Io vado a pescare l'altro I drop ci sono ancora Eccolo qua Madonna è devastato Ho ammazzato Thanos No Thanatos Ma come fai a correre così veloce? Ah ma perché tu non hai le armi in mano? Sì ma il GKPS Pesa un chilo neanche Una panchina Guarda sta panchina Una panchina sospetta È vero Ma fa molto Far West Sta panchina Guarda la villa con la veranda Ma la voglio fare anche io una cosa così Riva al mare Ma che me frega Mi hai lasciato perché mette un cazzo Pesore esotico Tu ce l'hai? Quanta giri te la mia signorina Mettiamola in terza persona Attenzione Due squadre Due squadre di minchioni Due bot Là c'è sto baracchino C'è il gioco a togliere o tre Falurano C'è un troppo a pipeline Ragazzi ma vi spiegate come fate a trovare comoda la visuale in terza persona? Cioè passa un millisecondo da quando sei a riposo a quando miri È il top del top Terza persona Se lo dite voi Se lo dice la voce del popolo Spacca tutto Spacca tutto Aia Attenzione ragazzi Gare clandestine Hanno preso un drop? Dove essere Mamma mia Mamma mia Attenzione Brucio Paolino Attenzione la gara Occhio all'albero Ce n'è uno qua Di cosa? Di drop o di nemico? Di persone Tutto tuo Cioè sarà una partita anche tranquilla Ma detta tra di noi Non sto facendo un cazzo in questa partita Oh valla lì E va No E dai Aspetta che c'è un salone qua sotto Ragazzi Non badate la mia mira Oggi è quello che è Sono le due Sono stanco Quindi se mi date dello scarso Di cacciare il commento Cazzo ma No ci sono ancora giocatori reali Porca trota Invece sì Oh C'è gente qua Credo di sapere dov'è quel salame Dobbiamo andare Passare tutta Pipeline E andare di là Ok Cioè oltre Pipeline Dobbiamo andare Sì 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 Ce n'è uno qua Oggi siamo entrambi a nove Come fai se per chiedere la nove? Mi avevi detto prima otto E ne hai fatta una No Che sono stanco Sono stanco Oggi aspetto in sessanta Ok ho visto degli spari In linea d'area Dritti per dritti Io di no Sì Se sono bot Non sparare Perché rilevi la posizione A chi ha l'artic 50 Vabbè senti sti cazzi Uno Un altro esotico Morto Eccolo qua un altro Cioè eccolo là in realtà Sta passando dall'altra parte Dove c'è la strada Attenzione Eccolo là Trovate Ma che è Dio Vieni qua che ti svergino Bravissimo Paolo Grande Bella giocata Cioè bella giocata Grazie Semplice giocata Grazie altrettanto Allora Ecco qua ragazzi Come vedete Io vabbè sono già a livello 13 Ma dato 15.325 punti Al 14esimo livello Sbloccheremo Una nuova skin Per il drone E 50 crediti Mamma mia Vabbè Andiamo avanti E proviamo Quella Se c'è quella nuova Saloon Vai Dai Però la mappa nuova Non c'è Non c'è Saloon Non c'è Saloon Ma che merda E allora fai cattura Facciamo cattura la bandiera Dai Dico cosa me la anticipi a fare Se poi non me la vai a mettere Vabbè Cosa ne pensi Paolo Di questo aggiornamento Dica Allora Ti volevo dire Che ho scoperto Se vai su Missioni Stagionale Ti dà i punti Del battle pass E ne ho appena presa una Di a raccolta Queste cose qua Fai pratica Multigiocatore Diventa più efficiente E vinci più efficace A ricompense Tu vai nella prima Con la a raccolta P.E. battle pass Clicca sulla freccia destra Uccidici nemici Utilizzando Usando fuci di assalto Io non ho usato fuci di assalto Tu probabilmente si Quindi queste perché Amete sono un po' Forse le nuove missioni Donna 6.000 punti Ragazzi partiamo con Cattura la bandiera Via A standoff Tra l'altro Neanche a gast Vabbè Diamo andiamo Non cazzeggiamo Questo dobbiamo difenderlo Mamma mia Mamma mia Cos'è che ho preso Ho preso un uomo Che si è Oh recupera Ho preso l'oro nemico Copritemi 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 Subito all'istante Ok E ho preso l'oro Attenzione Chi è sto qua A biondo Dov'hai Vanachino Mamma quanto è bello Cosa? Quanto è bello Sto cecchino Mamma mia Predatore L'abbiamo ucciso Attenzione Vai col drone Mamma mia Ragazzi Siamo 1 A 0 Per noi Per noi Ok Vai col lanciapatate Vai col lanciapatate Dove siete? Presa Attenzione Bella sorpresina No Sono morto Ok Ci dà qualche secondo Per responare A random Ragazzi abbiamo vinto Il primo round Sì Quindi è al meglio Dei tre Mamma mia Attenzione Pistolero Attenzione Ok Fuori 1 Occhio che 1 sarà in base Non è vero Preso l'oro No Coprimi Coprimi tu Mamma mia Attenzione Devasto Occhio Mamma mia Occhio Ok Ucciso Morto Morto Ehi Morto Cioè ragazzi Sto facendo un Dell'asto Ok Ho preso anch'io l'oro Ragazzi Però qualcuno Mi deve coprire Ok Ci penso da solo Passo qua dietro Attenzione Che c'è un nemico Di là Ole E ci siamo Presi l'oro E ci siamo Presi l'oro Dai così Di cattiveria Mando il robotone Da panico Attenzione Ragazzi Proviamo anche Il Goliath Attenzione Guardatelo qua Il Goliath Che l'abbiamo Sbloccato Nel video Scorso Allora ragazzi La guidabilità Del Goliath È pessima Ma abbiamo vinto Bella Mi piace Questa modalità Questa mi sa Che la farò Spesso Madonna ragazzi Sono stato Devastante 3838 punti Mamma mia Dai Ole Livello 14 Vediamo come Abbiamo sbloccato Crediti E il drone Molto bene Molto bene Vediamo qua in evidenza Che ci segna Che abbiamo completato qualcosa Se vinci una partita Ruba la bandiera Uccidi 10 nemici Abbiamo sbloccato Il coltellazzo Non so quale Onestamente Quindi ragazzi Queste Generalmente Erano un po' le novità Non ho avuto modo Di provare Il Locus Ma nel prossimo video Ho promesso Che sostituirò L'Arctic 50 Stick Blue Di uno degli 5 Equipaggiamenti Li metterò Appunto a suo posto Il Locus Così andremo a vedere Un po' come è Questo cicchinazzo Da panico Novità Molto interessanti I bundle Li vediamo fra pochissimo Paolino Vuoi saltare? Sì a tutti E buona continuazione Un discorso Degno di nota Andiamo a vedere Quindi Le casse Possiamo sbloccare Delle casse Detro le quali Potremo trovare Credo a random Uno di questi Oggetti Mamma mia Ricognitore Samurai Ma guardate la sua Catti Ragazzi Questa deve essere Nostra Assolutamente Cassa selvaggio West Vabbè Questo BK57 Che avevano già visto E cassa La legge Dove possiamo trovare Lo sceriffo Hanno tolto I bundle Da quello che Mi sembra di aver capito Però ora Mi sa che dovranno Un po' Tutto Aggiornare La situation Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere La vostra Createmi Discussioni Qua sotto Spiegatemi Voi Tutta la questione Un po' Dei bundle Eccetera Perché come sapete Io è da un mese e mezzo Che gioco A Call of Duty Mobile Molto carina La modalità Ruba la bandiera Lasciatemi Un like Seguite quindi Le istruzioni Qua sotto Le belle faccione Come ho detto prima Attivate Mi raccomando La campanellina Così non vi perdete I video E da Oli Pasquali Vi mando un nome saluto Un nome abbraccio E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti ragazzi